Un gran gol ha evitato all'Arezzo di andare supplementare, insomma è iniziata con il piede giusto questa stagione. Sì, più che altro ci ha evitato di fare un po' più di fatica perché iniziare subito con una partita e andando oltre i tempi regolamentari era abbastanza pesante. Siamo contenti perché, come hai detto te, quando si inizia bene è comunque un segnale sempre importante. Siamo contenti anche perché non abbiamo avuto una grandissima possibilità in questa fase di ritiro di confrontarci con una squadra della stessa categoria, quindi bene, siamo contenti. Il mister, abbiamo analizzato la partita, prima mezz'ora è stato un Arezzo un po' timoroso con il freno a mano, era proprio una questione solo mentale. Sì, ecco, penso che il mister poi non sbaglia l'analisi perché lui è da fuori e poi trova tutti gli accorgimenti. Infatti nella seconda parte poi c'è stato un altro Arezzo, però ci poteva stare perché comunque non è un alibi ma si arrivava da sei mesi veramente di stop e non era facile. Quindi siamo contenti perché abbiamo pagato l'impatto, però abbiamo retto, siamo stati un pizzico fortunati nel primo quarto d'ora, venti minuti e siamo stati bravi poi a portarlo a casa. Parlando non solo di calcio giocato, il direttore ha un po' anticipato la firma sul tuo contratto, insomma se ce lo puoi confermare del fatto che a questo punto ti sia legato a vita, un po' era quello che volevi? Alla fine ve l'ho sempre detto questo, che la volontà è sempre stata quella di finire la mia carriera ma più tardi possibile con questa maglia, quindi sono quasi un aretino di adozione. Però sì, siamo a breve, domani dovremmo incontrarci per formalizzare il tutto. Questo mi rende comunque orgoglioso perché nonostante la mia età la società ancora una volta mi dimostra grandissima stima e io cercherò di ripagare sempre con le prestazioni alla nuova proprietà.